È sempre un piacere mettere di fianco i nostri colori a un calciatore argentino. Benvenuto Joachim Cortez. Joachim che Joachim Cortez. Joachim Correa. Che di Joachim ce ne sono due famosi. Lui, il ballerino e Correa. Allora, sono molto contento che sia arrivato questo calciatore perché è particolare. E attenzione a sottovalutarlo. Attenzione a dire che non va mai o quasi mai in doppia cifra. Attenzione a guardare i suoi gol. Perché lui è veramente un grande apritore di spazi. E un grandissimo calciatore. Un calciatore che gioca a calcio. Un calciatore, non un atleta prestato al calcio. Questo è un grande colpo. Io... Ah, prima una parentesi. Qui c'è lo scontrino. Questa è la nuova telecamera. L'ho provata adesso sul canale di Sergio. Ok? Quindi adesso l'ho anche accesa. Nuova telecamera senza i fili strappati. Ovviamente l'altra... Speriamo che mi ridiano il grano, ma non credo. Perché sono dei cornuti... Vabbè, sono tutti così. Speriamo. Magari mi danno i soldi. Comunque, era difettosa. Nuova telecamera. Grazie alle vostre donazioni. Grazie. Detto questo, dicevo che sono molto contento di aver così potuto fare dei video indirizzando così la nostra comunità verso il discorso GECO Correa, accumunati dalla gente, accumunati dalla volontà di Inzaghi e soprattutto così spoilerati un pochino da me perché aveva avuto queste info. Tanto che mi ero permesso ieri di scrivere il Tuco in 48 ore. A quanto so, dovrebbe già addirittura domani arrivare a Milano, una cosa proprio fatta molto rapidamente. Adesso poi presenteremo Correa, attendiamo parto tanto. Adesso quello che è uscito, a parte il bombone di Mbappé, che farà esplodere il mercato dell'ultima settimana, è arrivata la bomba delle bombe, quindi sembra ufficiale. Il reale è incendiato il mercato, offerta da 160, meno male che non avevano i soldi per Mbappé. Questo è stato detto al Ciringuito in esclusiva, dove spesso va Perez, tra l'altro dice che ne riparleranno a mezzanotte, dicono che questa offerta ha permesso al club di poter parlare col giocatore e il suo entourage. Da Parigi dicono che lui quest'anno non si muove. Questo era quello che vi avevo raccontato quando vi raccontavo le dietrologie del PSG. Cioè loro erano molto combattuti tra sta con noi perché non abbiamo bisogno di soldi, perché al di là di Messi e Hakimi, noi comunque Vijnaldum, Donnarumma e Ramos li abbiamo presi a zero, bla bla bla, abbiamo poi da fare, abbiamo anche noi ceduto un po' di gente, quindi siamo a posto con i conti. Poi qualcuno già ironizza sul discorso fair play che coinvolge tutti, perché poi c'è il City, lo United, il discorso di Di Ronaldo, che non partecipa alla partitella, che a Udine va in panca, che insomma ormai è sulla bocca di tutti. Quindi è esploso questo turbiglioni attaccanti come un pochino mi ero permesso di raccontarvi, ecco. Tornando però all'Inter a bomba come queste bombe e questi missili, adesso il grande enigma, io cercherò di risolverlo, è quello che mi avete posto oggi pomeriggio, poi scrivendomi su Instagram, sui vari messaggi, anche su YouTube. Cioè mi avete chiesto, ma Fabio, ma adesso è possibile che arrivi anche Belotti? E perché? Perché il buon Biasin, che stimo solo per il calcio, solo per il calcio, ma non è poco, non è poco, anche solo, che stimo per il calcio solo, allora diciamo così, non solo per il calcio, ma per il calcio solo. Cosa dice Biasin? Dice testualmente, a parte Inter-Correa, Correa c'è, Correa c'è. Io mi sono permesso due settimane fa di dire unico obiettivo Correa, l'altro giorno, l'altro ieri, Gico Correa, Gico Correa, Gico Correa, oggi, stamattina, eccetera, eccetera, no? E sono insomma contento. Quello che però Biasin ha scritto è molto interessante. Cioè sembra, sembra, io qua non trovo il tweet, sembra, allora, vediamo un attimo, qui c'è, vediamo un pochino, io sto tweet non lo trovo, qualcuno mi ha scritto, ma io qua non lo trovo. Qui c'è Inter-Correa, lo sceico del PSG ha rifiutato la prima fatta del Real da 160. Ok, non capisco chi mi ha girato, a volte costruiscono con le loro mani, allora magari è un fake, guarda, non lo so, mi sono preso mezz'ora per andare a fare la spesa, a comprare la telecamera e l'aspirapolvere perché devo fare pulizie e non solo a casa. Ho comprato un turbo aspirapolvere perché mi piace un sacco, a me piace fare le pulizie perché mi pulisco io. È come quelli che sabato mattina lavano la macchina e li prendono per il culo, invece non è vero. Lavare la macchina, magari non il sabato mattina, un altro giorno o quando uno cazzo vuole, anch'io mi devo fare i cazzi miei, lavatela quando cazzo volete, ma pulire la macchina è un grande mantra, nel senso che ti pulisci. Io ho cominciato sistemando tutte le maglie, le cose, su qua prenderò una roba all'IKEA e quindi vedrete i cambiamenti che saranno poi finalizzati a un discorso poi di lavoro, di video, eccetera. Però ecco, devo fare pulizie non solo a casa, nel box, non solo in ufficio, devo fare le pulizie forse anche tra tante false e pseudo amicizie. Ho preso un Dyson che se c'è qualcuno che fa il nudista nel raggio di 20 metri gli aspiro il pistolino. Ho preso un Dyson e ho detto guarda, sai cosa c'è? investo nelle pulizie, non c'è niente di meglio che fare pulizia. Anzi, ho messo in vendita una Castiglioni, la super lampada quella figa, adesso voglio dire quanto costa. Allora, vediamo un po', ho messo in vendita la mia lampada, eccola qua, la Flossi, questa è tarocca, 240 euro. Flossi, Castiglioni, è bella quella lì, però eccolo qua, l'arco che poi è una roba meravigliosa. Shopping, vediamo se è il custo, se è il custo, 1890, eccolo qua. Ok, ho messo in vendita, costa 1890 invece di 22, io ce l'ho uguale, marmo di Carrara originale, mica tarocca. E ho detto, sai cosa faccio? Nella vita devi fare pulizia e luce. Ho preferito mettere in vendita, in vendita, a un mio amico collezionista e antiquario, ho detto, guarda, ti do la Castiglioni, mi prendo una luce che fa più luce di questa, che questa fa una luce, perché ho bisogno di far chiarezza in tante cose. E poi, con i soldi che mi avanzano, preso qua, ho preso un Dyson, l'aspirapolvere più potente del mondo, non so il folletto, comunque questo digitale, e gli ho detto, guardi, ce ne sono sei, mi dia il più potente. Il più potente non c'era, che era doppia batteria, ma la potenza è uguale, ho preso un, non faccio pubblicità al Dyson, purtroppo, anzi, se ascolta il Dyson, e mi fa pubblicità, io questo lo riporto e me ne dai uno anche meno potente. Ma, devo fare molta pulizia nelle pseudo amicizie. Chiusa parentesi, Dyson, eccetera, luce e pulizia. Comunque, dicevo che, secondo una ricostruzione che davano a Biasim, ma in questo momento, credo che sia una fake news, qualcuno mi ha chiesto, Fabio, ma viene anche Belotti, e io ho detto che io sappia, che io sappia, Belotti era l'alternativa a Correa, al di là di tutto, ok? Poi qualcuno ha visto la formula con cui abbiamo preso Correa, allora dice, no, ma avanzano i soldi per... Quello che so io ad oggi, e fino ad oggi, diciamo che le cose sono state poi corrisposte nei fatti e dai fatti, quello che so io è che Belotti era un'alternativa, Quello che so io è che l'Inter sta aspettando Sanchez per due motivi, forse tre. Uno, Dzeko, Correa, Lautaro e Sanchez, che è un giocatore che all'Inter serve per quello che fa, perché gli altri non lo fanno. Due, perché è difficile piazzarlo. E tre, perché vorrebbe ancora, per un anno, tenere il Nino Maraviglia. Poi, quarto motivo, è che non ha avuto offerte. Non lo so se Marotta, quando ha detto, vi confermo Vidal e vi confermo i cileni, sia Vidal che Sanchez, in realtà bleffava. Non lo so. Certo è che c'è un indizio di Vidal, anzi, uno a suo favore. È iniziato fortissimo, informissima. E uno che domenica, o perché è tornato single, o perché non poteva, o non lo so, c'ha sette macchine. Strano che forse a casa è il compleanno del Toro, del Torito, anche perché sono molto amici. Strano che fosse a casa, o stava facendo la valigia, o non lo so, doveva sentire la gente, non lo so. Però strano. Me l'ha fatto notare un ragazzo che segue più di me i calciatori. Strano. Allora, non lo so se i cileni sono entrambi in uscita. Io questo non lo so. E Marotta ci ha depistato. In più abbiamo visto un Sanchez che corre. Lui ha un problema, mi diceva Cavasini, che saluto, al polpaccio che gli deriva dal problema al piede. E' chiaro, quando il piede, quando sai anche tu, ti fa male qua, allora tu cammini così, ti fa male di là. E lui è uguale. Ha sforzato molto. Qualcuno dice che Sanchez è arrivato al capolinea per il lavoro che ha fatto in questi due anni all'Inter. E comunque ha fatto una finale di Coppa e ha vinto un titolo. Qualcuno dice che invece ne ha ancora e potrebbe rimanere. Quindi, non lo so. Mi sembra che l'alternativa a Sanchez, che io sapessi, era Scamacca in prestito, Formula, Giovane, Bestione, eccetera. Non lo so. Adesso si parla di Scamacchi in altre squadre e si parla di Belotti con Correa. Io, in questo momento, sapete che quest'anno ho scelto questa linea, vi dico quello che so. E in questo momento il mercato dell'Inter è praticamente chiuso. L'operazione, ripeto, quella finale, la ciliegina, magari fosse Belotti, ma non credo. Poi, diciamo che a questo punto i cileni sono le ultime due... C'erano... vogliamo... Io all'Inter già come mercato gli do a 9,5. Come si faceva ad arrivare a 10? Dovevano succedere alcune cose. Allora, guardate che oggi alle 3,5 è uscito Pinamonti e è entrato Correa. Cioè, le cose accadono non a caso. Esce Pinamonti e entra Correa. Correa prendeva 3,3,5 e Pinamonti ne prendeva 2,5. 2,2. Quindi, voglio dire, come l'anno scorso, perché non entra Colauro? Perché deve uscire Godin. Adesso, quello che poteva, poteva succedere, erano tre operazioni. Tre. Ok? Così le diciamo, se no il mercato è chiuso. Una era a sinistra. Se fosse uscito Peresic, avevamo sotto mano a sinistra, forse Emerson, che è un battaglione, forse, visto che col Chelsea abbiamo fatto l'operazione Lukaku, forse avevamo Tellerso, forse non so chi, forse l'anno prossimo è arrivata Agliafico, forse, 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 però Inzaghi ha scelto Peresic oppure Peresic non aveva offerte. Lo slot a sinistra non si è liberato, rimarranno Peresic e Di Marco. Chiuso. Ne rimangono due operazioni. Una riguarda Nandez, che ho sempre specificato, perché Nandez arrivi, ma è un obiettivo dell'Inter, l'ha detto il Cagliari, l'ha detto Nandez, lo dicevo io, obiettivo dell'Inter, che non vuole pagarlo quella cifra oggi. È sempre stata quella la formula. Cioè, due condizioni. Il Cagliari deve accettare il tipo di pagamento, al massimo gli diamo in prestito qualcosa, poi è saltata anche la pista Nangolam perché il Cagliari non lo ha voluto, è saltata la pista Pinamonti, il Cagliari mi dicono che potrebbe prendere Satriano. Questo vuol dire che arriva Nandez? No. Perché Nandez, anche se Cagliari e Inter improvvisamente si mettono d'accordo sul prestito con obbligo, comunque non può entrare se non esce Vidal. è così. O se non escono, adesso oggi è uscito Agumet, è tornato in Francia per il dispiacere di Oscar Damiani, che è il suo popolatore, ma comunque rimane, o rimangono ad oggi, sette centrocampisti. Perché ci sono Brozzo, Barella, Ciala, Sensi, Vessino e Vidal, e poi c'è Gagliardini, Agumet è andato. Quindi esce Gagliardini, escono Gagliardini e Vessino? Non credo. Esce Gagliardini, arrivanà? Non lo so. Devi liberare uno spazio fisico nell'Inter e uno spazio di ingaggio e il Cagliari deve accettare l'opzione di pagamento dell'Inter, che non è un'opzione immediata, ma come stanno facendo tutti è prestito, magari oneroso, ti do qualche milione, ti do magari Satrialo sempre in prestito e poi te lo pago l'anno prossimo a rate, stile Barella. Nessuno ha mai detto Nandez all'Inter, sono sempre state queste le condizioni sine qua non. E non erano una, era il Cagliari che deve accettare questo, devono uscire giocatori e devono uscire giocatori che hanno un ingaggio simile e abbastanza alto come quello che Nandez prenderebbe. Poi l'accordo c'è con Nandez, ma non può entrare. Quindi non può entrare nessuno a sinistra, per adesso non può entrare Nandez e se c'è Sanchez, così concludo sull'attacco, non può entrare nessun altro. Ma neanche in prestito, perché con Dzeko, Laptar, Correa e Sanchez gli slot sono quelli. Quindi anche il prestito di un giovane forte, di un Torello come Scamacca, quando gioca Scamacca, ok? Tra l'altro i nostri giocatori non vanno a fare la Coppa d'Africa, come capita ad alcune grandi squadre, come capiterà al Liverpool o al Milan. Quindi il mercato ad oggi è virtualmente chiuso. Se, se, a sinistra per me è finita lì, se, se arriva Nandez, perché si verificano veramente una strage di cose, e se arrivano Scamacca o Belotti, è perché proprio Sanchez non solo, non deve risolvere il contratto, deve proprio andare, scegliere una destinazione, andare via fisicamente dall'Inter come Vidal e liberare slot. Vidal prende 7 quest'anno e Vidal e Sanchez anche lui 6, 6 e mezzo, non lo so, 5 e mezzo. Insomma, a quel punto lì sì, puoi prendere Scamacca in prestito o Belotti, che lo paghi poco e ti costa meno di ingaggio. Nandez, se il Cagliari accetta, ti costa meno della metà di Vidal, però devi accettare anche la forma di pagamento. Queste sono le ultimissime mosse che si devono, avete visto, se non usciva Pina Monti non entrava Correa, quindi queste sono le cose che si devono verificare. Dopodiché il mercato ci risolverà grandi sorprese, perché, come vedete, hanno spoilerato la foto, questo qua del Qatar, poi è clamoroso, poi hanno negato. Mappé dice che il campionato francese fa cagare. Il Paris Saint-Germain dice i tuoi soldi non mi servono, il Real fa un'offerta quando diceva che aveva le pezze al culo. Dopodiché Cristiano Ronaldo adesso è dappertutto. Da che non partiva, la poeca piange già, perché ha detto, eh però lui lo avete messo di fianco alle squadre con tutte le magliette. Lui è ancora qua, ancora alla Juve, però se va via. No, è anche simpatico l'Apo. Nel senso che l'Apo dice praticamente non l'ha presa bene, sa che andrà via e sa che vuole andare via. È brutto quando è un calciatore che sa che vuole andare via. Poi dicono, è fatta col Manchester United. Poi dicono che se non arriva Kane, va da Guardiola, che intanto sta dando Silva al Milan, perché sta liberando slot, non lo so, per pezzi di stipendio. E poi tanti invece dicono che alla fine Mbappé andrà a Madrid, dove l'anno prossimo andrà anche Haaland. Tanti dicono che Haaland andrà al Bayern, ma non credo. E ci sarà una coppia pazzesca, Real, Haaland e Mbappé. E probabilmente, potrebbe essere che realmente, vada a concludere il terzetto. Ronaldo, Messi, Neymar. E a quel punto lì ti diverti. Ti diverti perché comunque chissà che cazzo combinano. Quindi è una schifezza al punto di vista del fair play, ma ripeto, l'ultimo che ha detto che il fair play finanziario è una cagata galattica è stato Piccinini. Anzi, qui dice, io lo dicevo quattro anni fa, però ero quello cattivo perché le calcolatrici 5 più 8 più 4, 5 più 5 è 27, come dice il nostro amico della... Piccinini, FPF, figli. Il fair play finanziario, una buffonata demagogica. Questo è quello che dice... Eccolo qua, il fair play finanziario, una buffonata. Ok? Però vedo che Piccinini lo diceva anche anni fa. Bene, siamo in due, Sandro. Grazie. Grande Sandro. Quindi la buffonata. Bravo, bravo. Io è Piccinini, eh? Lui l'ha detto ancora... Vabbè. Quindi queste sono un po' le notizie del mercato internazionale, del mercato dell'Inter. Quello che penso veramente, dalle fonti delle fonti, sono contento. Benvenito a Joaquin Correa. Vediamo un attimino se abbiamo ultime, ultimissime news. Allora, vediamo un po'. Ultimi dettagli. Si punta ad averlo a Verona in campo. Sanchez ha voglia di tornare, il recupero va un po' meglio. Lazzaro probabilmente, come dicevamo oggi, sembra che sia uscita. Questa volta non in Germania, non in Germania, ma sembra che vada al Benfica, qualcuno dice. Tra l'altro il Benfica sta giocando. Non so se sta vincendo. Veniamoci. PSV, Benfica. Beh, dipende. Perché se il Benfica... Allora, 0-0, quindi per adesso... No, è finita. Allora si è qualificato... Si è qualificato il Benfica. Eh sì. Eh sì, è uscito il PSV. È uscito il PSV. Eh sì. Eh sì, è uscito il PSV, allora. Quindi vuol dire... Vuol dire... Che loro a questo punto potrebbero veramente prendere... Avere i soldi per prendere... Vedi? Benfica è passato. Giova Mario, poi c'è Grimaldo, c'è Vertonghen, Yarem, Ciuk. Eh vabbè, il Benfica è una bella squadretta. Si prendono anche Lazzaro, che per me non è scarso Lazzaro. Ok, ah, Goumè dicevamo al Brest, altre operazioni, Insigne, Gaiardini, roba in uscita. Boh, io... Eh... Non credo, ecco, poi alla fine... Adesso è uscito Pinamonti, adesso manca Salcedo, manca Satriano, queste qua sono le no. Eh... Vediamo un attimino se qualcuno dice le cifre di Belotti. Pinamonti ha detto sia all'Empoli, Correa, ve l'ho detto... Vediamo un pochino se ci saranno ancora fonti delle fonti. Allora, qui dicono Calcio Mercato Torino, il punto, Belotti Inter, quotazioni in calo. Ok? Qui dicono dopo l'acquisto di Correa, sembrano in calo le quotazioni di Belotti. Poi parlano di Izzo, Cagliari, è una specie di pagina, di portale del Toro. Quindi, a quanto sembra, insomma, a me avevano detto che il nome era solo Correa, l'alternativa era Belotti. Buon, vi ringrazio e tante, tante notizie di calcio e insomma, faremo presto una live. Anche, anche qua, vedi, CR7 si vede a City. Qui dicono che lui si vede a City ed è sicuro del trasferimento. Continuano i rumors, beh, anche l'apo che parla. Secondo l'equip, CR7 starebbe spingendo per trovare il trasferimento in extremis al Manchester City, ok? Già si vedrebbe in mezzo a De Bruyte, Marez, Jesus, eccetera. Ok, 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 va, dai, almeno quest'estate l'ho prese praticamente tutte tranne Messi che ho sbagliato perché ero sicuro finisse la carriera a Barcellona e invece no. Però insomma, su Ronaldo avevo avuto delle fonti. Poi vi svelerò che cosa sapevo da aprile di Ronaldo, ma aspettiamo che vada via insomma. qualche complicazione c'è stato. Poi Nedved dice che resta, Alleghi dice che resta, non resta, non resta. Ok, un abbraccio a tutti e grazie anche su Instagram per aver condiviso la storia di Correa. Un abbraccio. Spero di potervi sempre informare meglio e di tenervi informato su quello che so, su quello che non lo so, non lo so.